Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, eccoci qui direttamente dal primo maggio, il grande, grandissimo Maldetto. Ciao a tutti, un abbraccio forte, non vedo l'ora che inizi il concerto, si è tantissimo per la gente come lui, che ha una mente squisita che non voglio immaginare. Grazie, troppo buono. Ciao. Ti ringrazio, un saluto a tutti i tuoi fans, ovviamente. Un saluto a tutti i tuoi fans, mi raccomando seguitemi, se non mi vedi al concertone, a Rai 3 io esco alle 22.20. Ecco. Mi raccomando svegli e attenti per saltare. Attenti e una sorpresa per te, ecco qui la manina del salutatore. Grazie, è sempre valutissimo, ciao. Ciao, grande Maldetto, salutatore. Ciao.